una parte la parabola colpo di testa attenzione c'è stato il gol Gentino controlla il pallone lo difende dal ritorno di Scarano si libera bellissimo il cross Pirritano finisce per Procopio Domenico Voci si gira è contrato e questo è il rigore un passo ancora un passo parte Marco Voci finale incandescente qui tra Montepaone e Monasterace però con mister Regolo vorremmo prima parlare della partita una partita dove siete riusciti a bloccare il Montepaone con un'ottima disposizione in campo e forse alla fine il risultato poteva essere più giusto un pareggio anche se il rigore era netto io non metto in dubbio il fatto del rigore perché però noi abbiamo fatto una grandissima prestazione contro una grandissima squadra sapevamo delle difficoltà di questo incontro e ci eravamo preparati proprio alla grande per venire almeno a riuscire a strappare un punto molto arduo era molto difficile perché sappiamo il valore del Montepaone fa rabbia ripeto fa rabbia aver perso la partita nell'ultimo minuto mi pare del tempo regolamentare per un'ingenuità proprio del difensore e quindi conoscendo mister regolo fa forse più rabbia lo spettacolo che non è stato decoroso del finale una specie di caccia all'uomo non è questo il calcio che piace a noi a mister regolo conoscendolo lei ha perfettamente ragione a me queste cose proprio non piacciono perché io sono un uomo di calcio di 35 anni che sono nell'ambiente non pensavo nel modo più assoluto di assistere delle cose del genere e allora possiamo dividere la cosa in due complimenti per il calcio giocato dal Montepaone e rimaniamo senza parole per quello che è accaduto a fine partita condividiamo quest'ipotesi ha detto tutto lei io la condivido in pieno mister Pisano avete ragionato fino alla fine e avete conquistato tre punti contro una partita difficilissima il rigore era netto quindi merito al Montepaone però c'è voluta tanta tanta pazienza sì hai detto bene c'è voluta tanta tanta pazienza soprattutto speravo che ce l'avessimo perché non sempre si riesce a ragionare in una partita dove pronti via nei primi 20 minuti sbagliamo tanta occasione da da goal che si mette male per perché poi si prende il gol contro comunque una buona squadra quindi difficile da affrontare finire il primo tempo 1 a 0 per loro ricompattarsi negli spogliatoi e poi nel secondo tempo riuscire a ragionare come ben dicevi fino al 95esimo fino a quando poi prima del 90esimo credo abbiamo fatto il 2 a 1 però era la partita che mi aspettavo il secondo tempo avevo chiesto di proprio questo di riuscire a a pensare solo a giocare a calcio senza alzare il pallone senza perché i risultati sarebbero venuti fortunatamente è stato così e poi il finale come abbiamo detto anche con mister Regolo quello non è più calcio una calcia caccia all'uomo indecorosa momenti di nervosismo che hanno sporcato una prestazione direi eccezionale del Monasterace se posso sì io non ho capito bene cosa sia successo in campo sicuramente c'era nervosismo per il fatto di aver perso una gara all'ultimo minuto dopo essere andata anche in vantaggio però questo non giustifica ovviamente quello che ho visto e sono senza parole non mi piace assolutamente non è calcio e preferirei parlare sicuramente di altri non mi piace assolutamente ma poi c'è il